Ah, che te lo sai? Scusa, non salgo, guarda, sono una smimorata. Ho lasciato le chiavi della macchina nel quadrante della macchina e non mi ricordo più dove ho parcheggiato la macchina. No, che sfiga! Solo che questo è un ascensore. Eh, lo so, ma la cosa divertente è che nelle mie chiavi ho un geolocalizzatore che posso governare tramite un app che ho sul mio iPhone. Figo, solo che questo è sempre un ascensore. E non trovo più nemmeno il mio iPhone, capito? Quindi mi servirebbe il tuo iPhone per usare trova il mio iPhone, trovare il mio iPhone, utilizzare l'applicazione, trovare le chiavi della mia macchina nel quadrante e di conseguenza la mia macchina. Ho capito, ma come fai a dire che ho un iPhone? Ah no, scusa, hai ragione. È che ti seguo su Instagram, ho visto la storia che ti sei appena fatto qui allo specchio con il tuo iPhone, che ho scritto presso l'ascensore. Allora cosa ho fatto? Cliccato l'ascensore, ho visto che rende le vicinanze, ho seguito le coordinate e voilà! Eccomi qua. Ho capito, ma come hai fatto geolocalizzarmi? Con il mio iPhone. Ma scusa, ma non avevi bisogno del mio iPhone per cercare il tuo iPhone, per cercare dove avevi parcheggiato la tua macchina con le chiavi inserite dentro il quadrante? Macchina? Ma io non ho neanche la patente. E comunque vado al tredicesimo, grazie.